Siamo stati fermi tanto, è stato un periodo difficile per tutti, la cosa importante è che stiamo tutti bene, la ripresa è stata caratterizzata comunque da una ripresa graduale perché il virus è sicuramente una brutta bestia e bisogna avere un attimino di pazienza per ritrovare e ritornare nella forma in cui eravamo. Detto questo, la squadra sa che in questo momento è fondamentale essere molto focalizzati sui nostri aspetti tecnici e tattici, ci aspetta una partita molto complicata perché Bergamo ha dimostrato nelle ultime uscite di non mollare mai, anzi di combattere punto su punto, set su set, ci manca ritmo gare, è vero, ma non deve diventare mai una scusa, quindi sappiamo che ci aspetta una partita difficile e complicata, ma al tempo stesso sappiamo il nostro valore. Partiamo dal fatto che in questo anno dobbiamo essere estremamente consapevoli che l'elasticità deve essere la priorità, quindi non possiamo lamentarci se giochiamo ogni tre giorni, se siamo stati fermi un mese e mezzo. Detto questo, non voglio guardare a livello di impegni sulle tante partite che dobbiamo recuperare perché in poco meno di due mesi abbiamo tutta una regular season da fare più la CEV, ma al tempo stesso dobbiamo pensare semplicemente a una partita che è quella appunto del 6 contro Bergamo. Tutto il resto arriverà dopo, la cosa che è importante è programmare bene un recupero fisico e un lavoro fisico-tecnico, ma per il resto a noi interessa solo la partita di Bergamo.